Porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. È per queste ipotesi di reato che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarata hanno denunciato alla procura di Agrigento un uomo di 36 anni di San Giovanni Gemini. Il 36enne sarebbe stato trovato in possesso di una mazza da baseball e di un manganello di ferro, oggetti che sono stati posti sotto sequestro. I carabinieri della compagnia di Cammarata venerdì sera sono intervenuti in piazza Maria Santissima Cacciapensieri a Cammarata, dove per futili motivi un operaio catanese di 43 anni era stato aggredito con una mazza da baseball. I militari dell'arma hanno ritrovato la mazza e il manganello di ferro in possesso del 36enne San Giovannese, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo quindi è stato denunciato e stato di libertà alla procura della Repubblica di Agrigento. I carabinieri precauzionalmente hanno posto sotto sequestro sia la mazza da baseball che il manganello, entrambi trovati durante la perquisizione personale.